Ragazzi, nome e cognome sulla destra, mi raccomando, prof, io l'ho scritto sulla sinistra, va bene lo stesso? Sì, lascialo così ormai. Ragazzi, voglio i banchi liberi, non ci deve essere altro, le penne e basta, ok? Giù gli zaini, giù! Prof, ma si può usare la penna rossa? No, no, assolutamente no. Ok, no. Invece con la blu? Sì, la penna blu, sì. Sì. Prof, io l'ho scritto a matita, poi lo devo ripassare a penna, giusto? Sì, ragazzi, io non ti racconto delle cose scritte a matita, eh. Prof, ma si può usare la scolorina? No, ragazzi, la scolorina assolutamente no. Vabbè, io metto usata, cosa faccio? Vai, lascia la manuscrizione, ragazzi, la scolorina no. Prof, io ho finito il foglio, ne uso un altro? Sì, ragazzi. Fatto. Prof, ma chi ha finito deve consegnare? Sì. Ragazzi, prima di consegnare, rileggete attentamente quello che avete scritto. Posso bere un po' d'acqua? Sì. Prof, mi si è scaricata la penna, dove la devo mettere? Nel culo, cabras! Ok. No, no, non mi interessa, no, non mi interessa, questa...